Allora, questo qua è un personaggio che ho creato io nel periodo del covid. Infatti c'ha la mascherina, infatti io non sapevo che cosa fare, quindi disegnavo e coloravo perché non potevo sbattere la testa al muro senza fare niente. Io una volta volevo disegnarmi da solo, quindi ho cominciato prima a disegnare con la matita, con il pennarello, su carta, però adesso disegno digitale perché adesso mi sono rivoluto. Se volete seguirmi su Instagram c'è qua il QR code, lo potete benissimo scanerizzare. Ok, ok, oppure vediamo il profilo, il profilo è marcostein23, ora me la segno e lo metto sotto, poca descrizione. È finito? Grazie Marco, auguri per il tuo progetto. Quello è il profilo, guarda, vuoi fare la foto? Sì, chiarissimo sei stato, bravo. Auguri per il tuo lavoro, per il tuo progetto.